Oggi parliamo di persone eccitate, accalurate, sì, in lingua napoletana la persona che è in uno stato di eccitazione sessuale, chi le sta fiammati, chi le sta frenetico, quello che sta eccitato, c'ha una serie di sinonimi molto molto divertenti. Prima di tutto, chi le sta accalurato, c'ha le vampate praticamente, insomma c'ha le vampate di eccitazione, chi le si è allummato o sta allummato, che dal francese allumé, allumé che vuol dire appunto infiammarsi, però in realtà in lingua napoletana non ti allummà, vuol dire non ti illudere, insomma, sì, sei tutta appicciata, ma le speranze sono veramente pochissime. Chi le sta sempre attizzato, attizzato è come se fosse caloroso, come un tizzone ardente, insomma, metto un attimo il cappello, il tocco accademico della Gennarino II, perché qui il discorso si fa sempre più complicato. Chi le sta allupato, allupato, sì, sì, insomma, c'ha una fame sessuale, insomma, in qualche modo da lupi. Chi le ha satanata, mamma mia, è dominato dal demonio, è invasato, pare uno posseduto. Chi le sta sbavando, sta sbavando, insomma, dal desiderio. Chi le sta sempre infogliato, si è infogliato. Sì, la parola è dalla parola foia, che in italiano sarebbe foga. Sì, la foia, sapete, è quella sensazione che ti brucia dentro, che ti accende. Era una parola carissima a Raffaele Viviani, nella sua pesia Guaglione, quando dice A scuola c'ha salava ma partete che pa foia, o chi struputo o massima faceva firma soia. Viviani è naturalmente sempre il genio. Quelli che hanno la foia, l'artete che ha soprattutto i creaturi che stanno sempre infogliato. Però la parola più divertente, insomma, che descrive le citazioni in lingua napoletana è la parola arrapato. Anche perché sembra veramente strano, ma la parola arrapato, ma si sta arrapando, si sta eccitando sessualmente, viene dall'ortaggio, viene dalla rapa. Quella carnosa e radice, quella molto grossa, particolarmente turgida, che ha quella pellicina bianca e rosa, che serve per preparare, insomma, delle zuppe, delle minestre molto buone. Solamente che si fa una connessione semantica proprio con la rapa. Ma sto arrapando. Il mio membro sta assumendo la turgidità e la dimensione di una rapa. Ma sto arrapando. Ma sulla persona eccitata, arrapata, ci sono poi delle divertenti locuzioni in lingua napoletana. Per esempio, chi le sta arrapate come una scimmia? Beh, in questo caso il riferimento è al primato, alla scimmia, che sembra... C'è l'immagine di quest'uomo che se sbattaccai alla è citato come una scimmia in gabbia. Oppure, chi le sta arrapate come un manu ciucce? Beh, in questo caso è comprensibile, insomma, il riferimento semantico sicuramente, insomma, è alle dimensioni cospicue del membro dell'equino, naturalmente. Quindi, anche perché, come sapete, ciucce carragli, è proprio un battaglio. Ecco, così si dice in lingua napoletana. Ma quella che è veramente invece difficile da capire è la locuzione chi le sta arrapate come un manu cesse. Che ciazzecca, insomma, perché mai una tazza di calvinetto dovrebbe essere in qualche modo simbolo di eccitazione sessuale. A meno che non si faccia riferimento alla durezza della porcellana, che potrebbe richiamare la turgidità del penne in erezione. Beh, in ogni caso, signori miei, abbiamo tante locuzioni divertenti sulle persone arrapate, però venimene un ciallumma, fatevi una bella doccia fredda e diamo un cenacucà.